Assegnare meno compiti a casa per le vacanze di Natale, ad annunciarlo è stato il ministro dell'istruzione Marco Bossetti, che nei prossimi giorni firmerà una circolare che verrà inviata a diversi istituti scolastici italiani. Motivo di tale provvedimento è ridurre il carico di lavoro che viene richiesto agli studenti fuori dalla scuola, per consentire loro di trascorrere più tempo insieme alla famiglia. Intanto non si sono fatte attendere le reazioni sull'annuncio del ministro Bossetti. Non mettono un euro su edilizia scolastica, tagliano sull'alternanza scuola-lavoro, ma in compenso fanno la circolare per diminuire i compiti per le vacanze. Questo governo vuole male alla scuola, è stato il commento in un post su Twitter della parlamentare del Partito Democratico a Nascani. Stiamo trasformando la scuola in un itinerario sacrificale per studenti e genitori, fin qui senza nemmeno i risultati culturali delle generazioni delle vacanze lunghe. È invece l'opinione di Gianfranco Rotondi, vicepresidente deputati Forza Italia. Più neutrale è stato invece il pensiero del presidente dell'Associazione Nazionale Presidio Antonello Giannelli, che ha così dichiarato, ritengo che questa sia una questione che debba essere lasciata all'autonomia delle scuole. A supportare la proposta del ministro Bossetti sono i numeri resi noti da scuola.net, secondo i quali, durante le vacanze di Natale, la gran parte degli studenti non svolge i compiti a casa e molti non riescono a completarli tutti. E tra chi era riuscito a portare a termini tutti i compiti, bene il 70% aveva spiegato di aver svolto qualche esercizio persino nei giorni delle feste come Natale, Capodanno ed Epifania, mentre una quota simile, il 69%, aveva dovuto rinunciare a partire o a fare gite durante le feste.